Amici e amiche di Kenobi's Watch Productions, benvenuti a una nuova settimana. L'E3 è finito, quindi noi torniamo alla normalità, alla normale programmazione, e quindi oggi è lunedì, quindi stasera lunedì PlayStation 1, lunedì PSX con il nostro Antonio da Ginevra, che farà una serata interamente dedicata agli shoot'em up su PlayStation 1. Mentre invece domani, martedì, ci saremo io e Marta sul divano, non sul divano, che finiremo Sam e Max, e poi attaccheremo una nuova avventura grafica, che molto probabilmente sarà Broken Sword. Mentre invece, mercoledì, il consueto retro streaming, si manifesta dopo gli annunci dell'E3, dopo aver visto Mario più Rabbids, dopo aver visto Super Mario Odyssey, si concretizza con un altro stream su Super Mario Galaxy. Tornerà Andrea Babic, torneranno una serie di ospiti, e quindi, insomma, giocheremo a un classico Nintendo, un po' parlando di Mario e dell'immediato futuro di Mario. Quindi, scusatemi per questo video rapido, ma oggi è una giornata molto, 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 molto impegnata. Ci vediamo questa sera con il lunedì PSX, domani sera con il punta e clicca, e mercoledì con Super Mario Galaxy. Ciao a tutti!